Il mio nome è Dado Martino. In realtà mi chiamo Davide Tafuni, ma da quando ho iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo ho scelto di usare un nome d'arte. Poi chissà, un giorno spiegherò al mondo come mai ho deciso di chiamarmi proprio così. Sono nato nel 1977 a Napoli. Ho studiato presso il liceo socio-psicopedagogico, ma ho sempre sognato di lavorare in un mondo fatto di luci, suoni e animazioni. Da bambino mi dilettavo con il disegno. Sono riuscito a far pubblicare le mie vignette su quotidiani come La Nazione e su alcune riviste del fumetto. Amavo il disegno, le animazioni e la musica. Poi con il tempo ho scoperto che questo abbinamento di elementi si chiamava cinema. A 11 anni ho realizzato insieme ai miei amici dell'epoca il mio primo film, girato con una vecchia telecamera VHS e per il montaggio imparai ad usare due videoregistratori a cassetta. Il risultato fu un disastro. Furono un disastro anche giorni di ripresa. Sì perché due miei amici in una scena dove dovevano fingere di picchiarsi alla fine finirono per picchiarsi davvero. Ed io dovetti eliminare quella scena. Avevo però realizzato il mio primo lungometraggio e da quel giorno crebbe dentro di me il sogno di poter diventare un bravo regista. A 18 anni divento padre e mentre continuo a studiare regia e recitazione. Per mantenere la mia piccola bimba mi sono imbattuto in mille professioni diverse. Dal benzinaio al panettiere, allo scaricatore di cassetti di frutta al mercato, all'omino che porta la pizza a casa con il motorino. Tutto questo senza mai dimenticare il mio sogno. Quello di poter recitare e dirigere una mia opera. Ah, dimenticavo. Tra le mie esperienze c'è stata anche una parentesi che ha segnato in particolar modo il mio viaggio. Un giorno decisi di andare a lavorare in un circo. Mi assunsero all'inizio con manzioni di manovalanza, ma il mio desiderio era quello di scendere in pista e così fu. Imparai a fare il clown e imparai a stare davanti a un pubblico. Sono cambiate tante cose da quei giorni. Sono cresciuto, sono diventato padre per la seconda volta e a livello lavorativo sono riuscito a portare in scena più di 403 spettacoli di stand-up comedia. Ho portato al cinema otto film e ho lavorato come doppiatore e narratore. Sono stato testimone di alcuni spot pubblicitari e ho realizzato tantissimi video presenti qui su YouTube, alcuni nel mio canale e altri sparsi in giro per il web. Sono Dado Martino, questo è il mio canale e spero che i miei contenuti siano di tuo gradimento. Se ti fa piacere iscriviti al canale e cominci a seguirmi, sì perché ogni tanto realizzo qualcosa di particolare e forse un giorno realizzerò qualcosa di folle.